grande ragazze, ci siamo finta posizione, destra avanti, brava e miscia per quarta ma la seconda, brava e quarta, e chiudo e le levo ripeto, miscia per quarta seconda, chiudo quarta, e le levo alla fine, allungi mi raccomando spingite le punte pronte? Francesca Anna e grazie brava stavo riflettendo com'è che si chiamano quelle scarpette per danzare? ballerine già è vero, le ballerine è vero e più o meno quanto costano? 150 euro ah, 150 euro però mi è venuto un pensiero perché se una donna spende 150 euro per un paio di ballerine è tutto a posto, no? perché se un uomo spende 150 euro per un paio di ballerine viene considerato uno sporcazione oh, che cosa ho detto? scusa perché è così? e va bene, io non ho mi hai fatto male scusa oh, oh ah, ah e dai shhh e dai shhh oh, oh 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 oh